Un confronto costante e costruttivo con il mondo del terzo settore e del volontariato per studiare insieme priorità e obiettivi delle politiche sociali. Le istituzioni devono ascoltare il mondo del volontariato e del no profit che ha fornito un aiuto determinante non solo durante la recente emergenza sanitaria ma in tutte le situazioni di crisi. A parlare è il presidente della regione Cristian Solinas nel presentare l'avvio delle procedure per la costituzione del tavolo di consultazione degli enti del terzo settore della Sardegna. La regione ha infatti avviato una procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse che si chiuderà il 19 giugno e a cui possono partecipare gli enti del terzo settore in forma aggregata, procedura di cui può essere presa visione sul portale istituzionale Sardegna e Welford. L'obiettivo, dichiara l'assessore regionale all'igiene, sanità e assistenza sociale Mario Niedu, è dare massima rappresentatività a chi nell'isola opera nell'ambito della solidarietà sociale, della cooperazione, dell'associazionismo e del volontariato. Sarà un tavolo flessibile che di volta in volta consentirà di ascoltare la voce dei componenti più direttamente coinvolti nelle tematiche da affrontare. Fra i primi argomenti che intendiamo portare all'attenzione del tavolo, prosegue Niedu, c'è l'impiego di 1.200.000 euro di risorse nazionali destinate a progetti che saranno proposti dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale. L'emergenza sanitaria per il coronavirus ha profondamente inciso anche sul nostro tessuto sociale. Ora più che mai è fondamentale lavorare insieme agli enti e alle associazioni e dare sostegno al terzo settore che svolge una funzione rinunciabile su tutto il territorio. Grazie a tutti.